Fa male perdere partite a cinque minuti dalla fine, non so se sei d'accordo con questa analisi, primo tempo equilibrato, seconda parte di gara diciamo abbastanza più a tinte bianconere. Abbiamo avuto anche nel secondo tempo delle occasioni di ripartenza dove l'ultimo passaggio, l'ultima cosa, non abbiamo fatto gol, anche alla fine quel colpo di testa che abbiamo sfiorato il pareggio. Era una partita in equilibrio, loro nel secondo tempo forse hanno spinto qualcosina in più, ma siamo andati in difficoltà su errori tecnici nostri, su delle uscite di palla, abbiamo perso dei palloni che potevamo benissimo gestire meglio e niente. Un vero peccato perché gli episodi hanno deciso la partita, a mio avviso il rigore del primo tempo non c'era loro. Abbastanza dubbio, quantomeno? Non c'era proprio, assolutamente. Fra l'altro c'era un faro su sottile, che era rimasto a terra, loro non hanno buttato fuori la palla, l'arbitro non ha preso la decisione di fermare il gioco e abbiamo preso un rigore che probabilmente non c'era. Quattro sconfitte in trasferta nelle ultime quattro sconfitte, per pescare la squadra che ha fatto più punti all'Adriatico, c'è questa differenza tra i punti raccolti in casa e quelli in trasferta? Sì, è vero, questa è una cosa che mi fa male perché normalmente le mie squadre fuori casa raccolgono sempre dei punti, purtroppo siamo in una fase che in questo momento stiamo pagando anche gli episodi, il minimo episodio è negativo, prendiamo gol. Una partita che è stata segnata anche da assenze importanti, soprattutto quella di Brugman, giocatore a cui il Pescara probabilmente non può rinunciare. Brugman per noi è un valore aggiunto, giocatore di grande importanza, per il discorso che è tecnico, chiaramente è mancando lui, però Bruno ha fatto la sua parte, ha giocato molto bene, ma anche gli altri centrocampisti. Un vero peccato perché un episodio ci ha condannato. Lei parlava prima di episodi, però c'è un altro numero che probabilmente deve invitare un po' all'infessione, questi gol troppi probabilmente presi dalla squadra nelle ultime giornate, soprattutto in trasferta? Sì, è vero, è un dato di fatto, dobbiamo cercare di rimediare questa situazione. Venerdì il Perugia, gara da vincere? La nostra partita, cerchiamo di farla bene attraverso una buona prestazione e di raggiungere i risultati.